Quasi 5 milioni di euro in arrivo dopo la situazione di eccezionale siccità di quest'estate. Ad essere interessate sono le province di Forlicesena, Rimini, Reggio Emilia, Polonia, Ferrara e Modena. Tali finanziamenti si aggiungono agli 8,6 milioni già assegnati in precedenza. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, segue la decisione presa dal Governo di estendere a tutta la Regione lo stato di emergenza nazionale, già riconosciuto alcuni mesi fa ai territori di Parma e Piacenza. Si tratta di un risultato importante, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Paola Gazzolo. Con le nuove risorse definiremo rapidamente un piano di interventi urgenti per dare risposta alle criticità aperte a causa delle elevate temperature della stagione estiva. Le azioni, conclude, saranno individuate e condivise con comuni, Atersir, consorzi di bonifica e gestori della rete idrica, all'insegna della reciproca collaborazione che contraddistingue il metodo della nostra regione.